Equilibrio tra le forze politiche vincitrici e le elezioni, ma anche uno sguardo al futuro e allo sviluppo della città, sono questi gli elementi che hanno caratterizzato le scelte del sindaco Alan Fabri, confermato due settimane fa al primo turno delle elezioni amministrative. Oltre al primo cittadino Alan Fabri che mantiene le delega alla sanità, affari generali, relazioni istituzionali e comunicazione, nove saranno gli assessori che comporranno la giunta dei prossimi cinque anni. Tra le conferme ci sono Alessandro Balboni che diviene vice sindaco, oltre che assessore tra gli altri alle opere pubbliche, infrastrutture, Ferrara città universitaria, ambiente e protezione civile. Nicola Lodi mantiene la delega alla sicurezza, frazioni, urbanistica, paglio, ma anche manutenzione strade, decoro urbano e mobilità. Angela Travagli ha una nuova delega, quella dell'attuazione del programma, ma mantiene anche le deleghe del personale, a cui si aggiungono le politiche del lavoro, pari opportunità, fiere mercati e spettacoli viaggianti. Matteo Fornasini mantiene l'assessorato al bilancio, al turismo, a cui si aggiunge la delega dell'agricoltura. Cristina Coletti rimane assessore alle politiche per la famiglia, politiche socio-sanitarie e politiche abitative. Marco Guglinelli, con la delega alla cultura e musei, ai monumenti storici e civiltà ferrarese, oltre che UNESCO, aggiunge alle sue deleghe quella ai beni monumentali. Tra le novità siederanno in giunta Francesco Caritain, qualità di assessore allo sport, attività produttive, commercio e sviluppo economico. Chiara Scaramagli avrà le deleghe alla pubblica istruzione, politiche giovanili e gemellaggi. Francesca Savini è assessore con delega al PNRR, Anagrafe, Servizi Informativi, Digitalizzazione e Smart City. Una giunta che rispetta l'equilibrio che è nato dal voto democratico di due domeniche fa. La quarta giunta che faccio ha sempre delle difficoltà per dire dei no a delle persone, ma io ho pensato oltre che al netto dell'equilibrio politico che dicevo prima, anche al bene della città e credo che questa squadra, queste persone, possono fare molto per Ferrara da qui i prossimi cinque anni. Abbiamo lavorato per dare ancora un tono maggiore per quello che riguarda la manutenzione e i lavori pubblici e anche il tema del PNRR su tre persone diverse, perché credo che questa sinergia e queste deleghe che sono molto vicine ma a tempo stesso necessitano di un controllo adeguato ci dia la possibilità di migliorare ancora quello che è la parte principale delle opere pubbliche. La prima giunta credo che la faremo martedì prossimo e già da oggi pomeriggio comunque ci troveremo e cercheremo di ragionare sia a livello gestionale di ogni assessorato e anche la macchina amministrativa dovrà essere consolidata con le operazioni che abbiamo fatto in questi cinque anni che hanno garantito l'ingresso di tante figure professionalmente competenti e anche giovani e hanno dato freschezza a questo comune. Tra i prossimi appuntamenti in agenda, venerdì 28 giugno alle ore 20 e 30 in Darsena, si tiene la prima seduta del Consiglio Comunale di Ferrara. In questa occasione, anticipato Fabri, verrà indicato il nuovo Presidente del Consiglio, mentre per la Vicepresidenza sono già in accordo con il partito maggiore d'opposizione, il Partito Democratico, aggiunto il neo primo cittadino.